Numero 29 la mazzeria, attenzione, vai Carini, dibattista, Somigliana, Cavalleri, Marco, Vedi Aloiso, e vediamo la pieta di Piazza, Isaia, Dio Pista, dicevano, preme la sgommata, avanza tutti, cerca di portarsi subito al comando, vedi dibattista, Isaia, e poi con 277, Vedi Alessandro, della ciclistica oggi a Pese, e ancora Tim Picaio, Carinini, Simone, in terza posizione, poi scorda la casacca del parolaggio, andiamo a vedere di chi si tratta, Alberto, esordiente al cammino.